Le stesse sono un fenomeno particolarmente allarmante che definirò domani il nostro terrorismo, perché va trattato questo fenomeno come un fenomeno terroristico, con la differenza che noi non abbiamo di fronte dei kamikaze, abbiamo di fronte delle persone che tengono la loro pelle. Quindi credo che vada bonificata la società, perché se andiamo avanti solo con la falce della repressione sbagliamo, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo però dare anche delle risposte concrete, perché si tratta di atti di guerriglia che tendono a terrorizzare i cittadini, cioè l'unico scopo di queste persone è dimostrare in maniera plateale il loro possesso del territorio.